Cosa fate qua? Ciao a tutti! Noi siamo qua indotti praticamente perché stavamo andando a Damanhur oggi e quindi siamo stati dirottati Ci hanno bloccato? Ci hanno bloccato! Perché appunto passava il Giro d'Italia E così gusteremo due cose il Giro d'Italia, la bella giornata il buon cibo e anche Damanhur se poi ci fanno andare E non vediamo allora che passi il Giro a Luna così poi ce ne andiamo Grazie! Salutiamo tutti i nostri amici damanhuriani e anche tutti i piemontesi Ciao da Padova, da Bergamo Viva il Giro! Viva il Giro!